Per uscire dalla TAV senza perder la faccia, perché non fate un bel referendum? Il governo si deve assumere delle responsabilità, poi tu sai come io la penso, io sono per l'Italia che va avanti, per l'Italia dei sì, l'avevo detto sulla TAP, l'ho detto sulla Piedemontano, l'ho detto sul terzo valico, mi si portino dei numeri... Ma lui pensa che hai bei porta a porta con Salvini contro Di Maio al referendum? No, no, poi la politica si deve assumere le sue responsabilità. Ho capito, però se i costi benefici vanno male o dicono che vanno male... No, per caita di Dio, noi abbiamo fatto la scelta sul Global Compact di far esprimere il Parlamento e di recepire qualunque indicazione darà il Parlamento, quindi il mio modello è la Svizzera, questi votano ogni mese su tutto, sulle tasse, anzi per essere però la maturità degli svizzeri hanno votato per l'abolizione del canone della televisione pubblica e ha vinto il no. Ma noi siamo per i sì, infatti, ma ti ho detto, ma basta aver pazienza, guarda la TAP, rivoluzioni, presidi, polizioni, i lavori sono in corso, la Piedemontana, il casello viene inaugurato, il terzo valico serve, il tunnel del Brenner va, l'A22... Alla fine arriva anche la TAP, dai. No, aspettiamo questi risultati, se firmo un impegno... Decidono loro? Decide la Commissione? Decidono i tecnici, ognuno deve fare il suo, certo. Cioè se i tecnici dicono si può smettere, tu sottoscritti? Io mi auguro che i tecnici mi dicano a anti Saoia. Ma i tecnici ti diranno... No, non li conosco, non li ho a guarda, ma non è... No, ma voglio dire, lì ci sta un problema di costi per i fuggi. Ci manca giusto che io vada... Ma non ci mancherebbe altro, però voglio dire... Apro un'altra inchiesta, ho già 20 di inchieste. Per chiudere... Tipitenti a me da...